E siamo sempre in diretta da Piazza Vittorio Veneto, mi ritorno in mente oggi in diretta radio tv sul canale 87 abbiamo qui con noi due grandissimi ospiti Venanzio e Lilith Ciao, buonasera a tutte e tutti Buonasera, benvenuti Finalmente direi Finalmente, eccoci, loro sono arrivati da Roma freschi freschi Esatto, sì sì E chi sono? Sono... E chi sono? Chi sono? Non vogliamo scoprirlo Esatto Cominciamo subito già ad indagare un pochettino Marta Non indaghiamo, indaghiamo Forse qualcuno di voi li conosce perché loro fanno parte della compagnia Controtempo Theater che ha vinto per due anni di fila il bando del comune di Pinerolo per organizzare l'estraordinario festival e magari qualcuno di voi nel mese di luglio scorso li ha visti in scena con uno spettacolo bellissimo su Giordano Bruno che ha avuto un successo di pubblico pazzesco e quindi se volete tornare a rivederli a vedere che cosa hanno combinato e cosa andranno a combinare con l'estraordinario festival fino all'11 ottobre Eccoli qui Eccoli qui Allora, cominciamo a chiedere qualcosina, cominciamo ad indagare Allora la compagnia intanto, come è nata e perché anche questo nome? Se avete voglia di raccontarci qualcosina Certo, come no Ci parte? Beh, andiamo insieme È un'interrogazione a due Tranquilli Risponiamo insieme Cercheremo proprio di parlarvi insieme di questa folle impresa che è Controtempo Theater Che nasce nel 2016 dall'incontro di appunto tre persone Venanzio, me e Danilo Franti che dopo vedrete E ci siamo conosciuti in Accademia E lì in Accademia abbiamo fatto un percorso molto intenso Che ci ha portato poi a capire che forse insieme potevamo affrontare quella che era la vita lavorativa e artistica al di fuori dell'Accademia Che è sempre un luogo in ogni modo protetto E così, insomma, finita l'Accademia Diamo il via a questa avventura E tutto nasce da notti Giornali Lunghissime Pensieri veramente da folli, da pazzi Grandi progetti Poi pianti E poi, insomma Tutto, avete attraversato tutto È stato ovviamente un vortice di emozioni Volevo chiedervi una cosa subito Ma allora, tre siete praticamente nella compagnia a organizzare tutto Ma i ruoli, cioè i ruoli, in senso, siete tutti attori, tutti i registi, tutti... Chi comanda, insomma Chi è che prende poi la decisione finale? Lilith Guarda, ti sembrerà strano, ma non comando io Perché non comanda nessuno in realtà Comandiamo tutti, ma è nessuno Questa è la verità Nonostante che a teatro molti dicono che non c'è democrazia, no? Come dire, c'è sempre qualcuno a capo che deve gestire, comandare Ad esempio, il regista deve gestire gli autori, deve coordinare tutto Invece noi addirittura riusciamo a, per adesso, e poi non... Sì, poi non si può mai sapere A gestire, a dirigere anche uno spettacolo in tre Ah, quindi lo dirigete insieme? Assolutamente sì A pezzo e volentieri sì Ah, grazie, grazie Degli spettacoli che noi, insomma, dirigiamo insieme Giordano Bruno, ad esempio... Ecco, no Partendo a Giordano Bruno, che è lo spettacolo che avete nominato prima La sono stata io, la capa La capa è stata Lilith Mentre invece, per La luna, l'amore, Sirano, che è lo spettacolo che andrà in scena dopo domani Ha forse anticipato un po' la scaletta, però... No, va bene No, va bene Un'introduzione molto veloce Per quella, faccio l'esempio, la regia è curata da noi tre Ah, tre Quindi noi gestiamo, siamo tutti quanti attori, attrici e... Ognuno con un ruolo diverso Con un ruolo diverso Non è che tutti recitate lo stesso ruolo Ma quello no, per ora no Quello ve lo siete No, no, no No, no, no Credo che possa anche succedere questa cosa Magari sia una cosa interessante Potrà anche succedere Faremo un esperimento Oltre essere attori, registi, siete anche organizzatori Quindi proprio organizzati gli eventi Come avete organizzato questo festival? E allora, in tutte queste emozioni, questi ruoli che si invertono Non si capisce chi comanda e tutto Loro sono riusciti a creare un festival extraordinario Come dice il nome Che è iniziato il 6 settembre scorso Andrà avanti fino all'11 ottobre a Pinerolo In svariati luoghi E c'è veramente di tutto C'è il teatro, c'è il fumetto Ci sono i laboratori ambientali Ci sono i concerti, la stand-up comedy C'è di tutto I laboratori teatrali Tra pochissimo ne parleremo meglio con loro Benissimo Una puntata straordinaria Quella di Mi Ritorno in Mente di Oggi Per parlare proprio dell'Extraordinario Festival Abbiamo qui con noi gli attori, i registi, i litigatori Come vi chiamate? Organizzatori Direttori artistici Ci piace anche dirigere in qualche modo i vari appuntamenti Quindi sì, un po' di tutto Un po' di tutto Abbiamo qui, sono i ragazzi della compagnia Controtempo Theater Che ha vinto per due volte di seguito Il bando del comune di Pinerolo Per organizzare l'Extraordinario Festival Io vi ricordo che ci potete seguire in radio Anche in tv sul canale 87 E poi seguire live La puntata sui nostri social Su RB e radio e tv Però non abbiamo ancora specificato e spiegato bene perché nome contro tempo Allora vogliamo sapere perché questo nome Ok, questa introduzione che noi abbiamo fatto vi sembra un po' confusionaria Perché abbiamo detto che facciamo un po' tutto eccetera No, bello, bello Perché ci avete interessato C'è un pensiero di base che accomuna tutto questo in noi tre fondamentalmente Ovvero quello di creare qualcosa di non convenzionale Va bene? Anche i nostri spettacoli vanno in scena, come abbiamo detto prima In maniera non convenzionale Cioè abbiamo spettacoli con format particolari Come ad esempio quello itinerante Quello a 360 gradi Ecco, già questa è una domandona che poi vogliamo farvi Che poi arriva dopo quindi non anticipiamo nulla E in generale noi facciamo teatro a teatro Però facciamo teatro anche in siti di interesse storico-culturale Riusciamo ad adattarci nei posti in cui possiamo fare teatro Più che altro possiamo portare il teatro Quindi contro tempo perché? Perché andiamo un po' controcorrente Cercando anche per certi versi di sorprendere Sorprendere per catturare l'attenzione dello spettatore Coinvolgerlo e trascinarlo nel teatro, in quest'arte E quindi contro tempo Perché anche nel giargo musicale o della danza In contro tempo si cerca comunque andando In contro tempo Spiazzate, volete spiazzare anche un po' Spiazziamo Vabbè, è interessante anche sorprendere un po' lo spettatore Anche che rimanga un po' affascinato e colpito Certe volte Esatto E poi in generale la compagnia, dicevo Il pensiero è quello di innanzitutto portare il teatro ovunque E a tutti Che poi è la missione di ogni arte Arrivare a tutti, comunicare a tutti E facendolo in diversi modi E anche su diverse tematiche Noi ci occupiamo anche di spettacoli che vanno sul sociale Ad esempio analizziamo molto spesso tematiche come quelle del bullismo Del cyberbullismo Del razzismo Dell'emancipazione femminile Insomma andiamo in questa direzione Portando il teatro a questo punto anche nelle scuole Ci teniamo a partire poi dall'inizio Insomma dalla base Dai ragazzi, dai bambini Aprendoci anche a un confronto Anche dopo gli spettacoli Quindi apriamo molto spesso chiacchierate, dibattiti Che portano sempre a qualcosa di positivo Quindi insomma contro tempo Riesce a toccare più ambiti, più contesti Portando il teatro ovunque Vi ispirate ai classici o andate sulla nuova drammaturgia? O un misto? Un misto Un misto, ok Partiamo dai... sì In realtà siamo partiti dai classici Abbiamo un hotello itinerante ad esempio E anche il Sirano ovviamente La luna, l'amore Sirano è ispirato al Sirano de Bergerac Però ci sono spettacoli che invece prevedono ad esempio la presenza in scena di un solo attore Come Quasar E vanno ad esaminare un po' il... esatto Quasar è proprio il... Quasar Oggetti misteriosi, Quasar Esatto Non si capisce bene se sono delle galassie o di buchi neri Esatto, esatto Però, allora, va bene il teatro, i luoghi inusuali, va bene il dibattito con il pubblico Però il teatro a 360 gradi Voi ce lo dovete spiegare perché c'è una signora qua che si è prenotata Ed è preoccupata Vuole capire cosa succederà Se ne vale la pena oppure no È pericoloso Allora, non è pericoloso Partiamo da questo No, allora, immaginiamo di essere seduti su uno sgabbello Su uno sgabbello io posso girarmi senza ostacoli No? Non ho nessun ostacolo intorno a me Io posso girarmi e vedere tutto quello che accade intorno È questo quello che succede nel nostro format di spettacolo teatrale a 360 gradi E cioè il pubblico si siede al centro della scena È proprio il pubblico il protagonista Voi siete intorno Noi attrici, attori con le nostre scene invece siamo intorno al pubblico Ah, bello E ci spostiamo ogni volta che è previsto uno spostamento Creando ovviamente delle immagini, delle scene teatrali Poi a seconda dello spettacolo che si porta in scena ci sono gli spostamenti necessari La signora è molto contenta, ha storto solo un po' il naso su sgabbello Però per il resto è bellissimo Dai, approfondiamo, approfondiamo fra poco Vorrei dire questo, io vorrei dire una cosa Vorrei dire una cosa Parlavamo di controtempo Poi mi riallaccio alla questione sgabbello Parlavamo di controtempo Controtempo è anche fermarsi e andare un po' contro la velocità dei nostri tempi Siamo sempre legati al tempo che siamo sempre di fretta Questo tempo che va veloce Oggi siamo a settembre, fra poco è Natale Se andate in giro ci sono già le cose per gli addobbi natalizi Siamo sempre ossessionati da questa storia del tempo Ecco, quello che accade ai nostri spettacoli Ma credo un po' in generale, per quanto riguarda il teatro Accade che in quel momento lì il tempo è come se si fermasse Non c'è un'appartenenza temporale Non è per noi importante definire Cyrano de Bergerac che andrà in scena venerdì Ma in che epoca è ambientato? No, a noi non interessa troppo quello A noi interessa che in quel momento lì Lo spettatore, la spettatrice insieme a noi artiste ed artisti Si senta in un'altra dimensione Si senta catapultato in un mondo che è privo dello stress Delle ansie, delle tensioni dovute a questo tempo Insomma che va veloce, troppo veloce Controtempo theater Abbiamo detto tantissime cose Già non abbiamo neanche ancora iniziato a parlare dell'extraordinario festival Quindi chissà cosa arriverà tra poco Rimanete qui con noi In diretta da Piazza Vittorio Veneto E siamo sempre noi quelli di Mi Ritorno in Mente Con la compagnia Controtempo theater E c'è un cambio Lilith si è trasformata Son attori giustamente Beh è andata male Lilith a me è andata oggettivamente male Però è andata così Di chi è questa voce? Di Danilo Io sono Danilo Sono il terzo Diciamo della compagnia Il terzo direttore artistico Il terzo C'è il terzo Sì sai che loro fanno tutto Sì loro sono molti Esatto Attori, registi, drammaturghi Il terzo regista Il terzo di tutto Il terzo di tutto Allora visto che sei il terzo Do a te la parola Per dire un po' velocemente Perché abbiamo poco tempo In questo intervento Ma che cos'è l'Extraordinario Festival Soprattutto come è nato? Ok allora Extraordinario è già dal nome È un festival Che noi abbiamo scelto questo nome Perché vuole essere un misto Tra straordinario E parlare di qualcosa Che è fuori dall'ordinario Quindi straordinario a livello di bellezza Questo è il nostro obiettivo ovviamente È fuori dall'ordinario Perché la tematica di Extraordinario È proprio la diversità È la tematica principale Che si snoda in diversità ambientale Culturale, sociale Di genere Insomma diversità in tutte le sue forme Quindi cerchiamo in tutti i modi Di parlare della diversità In tutti i nostri eventi Quindi è un insieme di eventi Di tantissimi generi Abbiamo parlato appunto di controtempo Che facciamo tantissime cose E anche qui abbiamo inserito la nostra natura Che è quella di fare tante cose Infatti passiamo dal teatro Alla musica Alla stand-up comedy Ai laboratori I laboratori ambientali I laboratori teatrali Insomma facciamo di tutto Tantissimo veramente Mostra di fumetto Perdonate la mostra fotografica È stata l'anno scorso L'anno scorso Non si creasse una diversità E in questo modo abbiamo messo insieme Tutte le arti E tutti i generi Avete fatto qualcosa di straordinario Che è in corso adesso Perché l'Extraordinario Festival È iniziato già il 6 settembre Andrà avanti fino all'11 ottobre C'è tantissimo Tra pochissimo Rimanete qui Venanzio Danilo Perché ne parleremo meglio E andremo ad approfondire anche Alcuni eventi in particolare E sono simpaticissimi questi ragazzi Di Controtempo Theater Durante il GR ci siamo fatti un sacco di risate Lo dobbiamo dire Siamo stati un po' disattenti E come sempre Come sempre D'altronde Siamo in Piazza Vittorio Veneta Pinerolo Per parlare dell'Extraordinario Festival E adesso ci impegniamo E parliamo Adesso vogliamo approfondire un po' Andiamo un po' a fondo Cerchiamo di indagare per esempio Che cosa succede questa settimana Almeno questa settimana Gli eventi Raccontiamo un po' di appuntamenti Esatto Un po' di appuntamenti Anche dove Dove sono Sì 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 Anche dove Tutti a Pinerolo comunque Tutti a Pinerolo Tutti a Pinerolo E questo è il punto fondamentale Forse è l'unico punto in comune Siamo al fatto che La direzione artistica Degli appuntamenti E il Festival è di Controtempo E questi sono i due punti Esatto Cardine Ok Allora Partiamo da Non da oggi ma da ieri Ecco Perché Ti sei perso Ti sei perso Quello Ti sei perso Allora Un laboratorio teatrale Tenuto dall'attore Pinerolese Marco Guglielmi Che è un nostro carissimo amico Con cui abbiamo anche frequentato l'Accademia È lì che ci siamo conosciuti Ed è stato impegnato con noi In altri spettacoli Insomma Questo laboratorio teatrale Che si tiene ogni martedì Al circolo sociale Io ogni tanto guardo Danilo Perché qualche informazione Me la posso perdere Sì sì no È tutto finatore È tutto corretto Vi potete suggerire Esatto Esatto E purtroppo però Questo laboratorio È sold out Avete capito Perché è appena uscita Sta notizia Nel laboratorio Anche quest'anno Tutti quanti si sono iscritti E quindi abbiamo raggiunto Il numero massimo Però sappiamo Che sta andando molto molto bene Ha detta proprio degli allievi Quindi Quindi non è giornaliero Nel senso che Ci si iscrive E poi si fa un corso Esatto Esatto Quindi non solo era ieri Ve lo siete Non solo era ieri Ma non potete manco più iscrivere Ecco E vi facciamo soffrire A questo momento Dai Facciamo soffrire ancora di più Allora Però potete anche rimediare Questa sofferenza Perché stasera C'è il secondo appuntamento Di stand up comedy Grande Grande Sì Al lato positivo Ospite Sandro Capai Con open mic Vale a dire Che chiunque può prenotarsi E prendersi il proprio spazio E sperimentare Col pubblico Insomma Fare la propria esibizione Bellissimo Ah bene Interessante Stasera alle nove Alle nove Ricordiamo che il lato positivo È anche uno dei nostri due sponsor Sponsor Ok Ok L'altro sponsor Vedete io sono il suggeritore Sì Teatro Teatro Un otto ve lo diamo Sì Noi ci stiamo preparando anche Per la scena del balcone Sirano Cristiano Sì Sì Penso lo ricordate tutti Ok Solo che lì Sì È lui che mi suggerisce Eh no Sono sempre io che suggerisco L'altro sponsor Dicevamo Non ci perdiamo troppo È la cantina del DOM Sì Ok E lì si terranno Degli appuntamenti musicali Perché quest'anno Abbiamo inserito anche La musica live All'interno del festival Wow La differenza dell'anno scorso E quindi ci sono Quattro appuntamenti Sempre di giovedì Sempre alle 21 Sì Con quattro gruppi Del territorio E cioè Indaco Canerba Out in the rain E Mr Sandman Guarda che memoria Guarda Scusa sono ammirato Danilo non ha detto Niente Io ero lì Che aspettavo L'errore E ma niente E con la cua dell'occhio Ho visto che faceva così Vediamo che non abbiamo gobbo Quindi non lo stavo leggendo Da nessuna parte È stato bravissimo Oltretutto sono di giovedì Fate il calcolo Oggi è mercoledì Quindi ci potete partecipare Non sono sold out E questa è già una gran cosa No infatti Non sono sold out E ingresso è libero Insomma Non c'è bisogno di prenotare Venerdì Passiamo a venerdì Ci siamo noi L'abbiamo stradetto Durante questa intervista Con la luna L'amore Sirano No Uno spettacolo ispirato Al Sirano del Bergerac Lo ribadisco A 360 gradi Sgabelli al centro Con un spettacolo Che si svolge intorno Intorno Pubblico coinvolto E protagonista Al centro dello spettacolo Per tutto il tempo Al Vescovado Al giardino del Vescovado Alle 20 e 30 20 e 30 20 e 30 Sì Di venerdì Di venerdì Passiamo al sabato Sì Dove abbiamo Due appuntamenti Giusto? E cioè Il laboratorio ambientale Sì Tenuto al Pratone Sì In questa località Che si chiama Pratone Da bosco urbano Partecipato Ecco Ok Il laboratorio ambientale A differenza dell'anno scorso Questo ci tengo a dirlo È aperto a tutte e tutti Tutte le fasce d'età Quindi l'anno scorso Era pensato Ideato per i bambini E per le bambine Quest'anno invece Per tutti Per tutti Quindi anche lì Bisogna iscriversi Sì E c'è la possibilità Per farlo E c'è la possibilità Ancora di farlo Scriveteci All'email Lo dico Però c'è scritto ovunque Compagnia Contro Tempo Chiocciola Gmail Punto Com Sì Sì Benissimo Ok E poi Terminiamo Con l'ultimo appuntamento Della settimana Mi piace Che poi Terminiamo Perché siamo proprio Qui davanti Ecco perché Ce lo siamo riservati Per ultimo E cioè Al nodo Ah Il nodo Esatto Una mostra Del fumetto Mostra del fumetto A cura di Alessandra Rostagnotto Gabriele Scarafia E ci sarà anche Un'esposizione Di Amnesty Amnesty International Che espone Una graphic novel Su Patrick Zaki Ah Perché poi ci saranno Anche delle conferenze Nella giornata Internazionale Della pace Il 21 settembre Il 21 settembre Ci sarà Dato che cade Proprio la giornata Internazionale Della pace Ci sarà un incontro Con Amnesty International Mosaico Refuges Che diciamo Vengono da Torino E invece abbiamo poi Un'associazione Che ci ha aiutato Nella costruzione Di questo intervento Che è appunto Pificio 121 Che insomma È di Pinerolo E con cui abbiamo Organizzato questo Appuntamento Perché per noi Come dicevamo All'inizio Come dicevate all'inizio Insomma Sono due tematiche Quella della pace E quella dell'ambiente Che a prescindere Dal discorso artistico Ci toccano molto E quindi ci teniamo Comunque sempre A portarle avanti E a ribadirle Insomma Fare sensibilizzazione Rispetto a questo E allora Abbiamo fatto Una panoramica Generale Di questa settimana È già cominciata Tra poco Andremo a parlare Ancora di alcune cose E poi vi lasciamo andare Anche perché Devono correre Al lato positivo Per la stand up comedy Di stasera Esatto Ancora con noi Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Altrimenti saremmo magrissimi Se non morti Delle scene Delle battute Dei dialoghi E questo è un dialogo Che avviene sempre Cioè io apro Dicendo che sono io Quello che cucino E poi ci sono loro Che dicono che non è vero Che smentiscono E quindi Poi viene fuori la verità In questo modo Ho capito Bene È un equilibrio interessante E' preparata Era preparata Era preparata Allora Abbiamo parlato Di Extraordinario Festival Abbiamo detto Veramente tante cose Ma perché È tante cose Extraordinarie Tante attività culturali Artistiche Per Pinerolo Dal 6 settembre È già partito Fino all'11 ottobre Ci avete raccontato Soprattutto questa settimana Cosa succederà Volete ancora In chiusura Andare a raccontarci Quella cosa Magari ci tenete tanto A dire questa Questa In particolare Danilo suggerisce No Qualcosa che faccia Fare proprio un wow Wow Ai nostri ascoltatori Ci pensa Lili Siamo felicissimi Di essere a Pinerolo E questo è vero Sono molto sincera Siamo stati accolti Benissimo Fin dal primo momento L'anno scorso Siamo arrivati qui Non conoscevamo Il territorio Conoscevamo Marco Cuglielmi Che è stato Insomma Menzionato prima E lui Sicuramente Ci ha un po' Accompagnati Nell'ingresso Qui in questa Città Però poi C'è stata Un'accoglienza Generale Che ci ha Scaldati Il cuore Davvero Perché è sempre Molto bello Per noi che siamo Un po' nomadi Che giriamo tanto È sempre bellissimo Sentirsi a casa Anche se non si è Nel luogo Di origine Insomma E quindi Questo aspetto Anche del nostro lavoro A me personalmente Piace molto Quello di appunto Essere sempre in giro Attraversare un po' I vari posti In tutta la nostra Italia Ma sentirsi a casa Succede Ma non è così scontato E qui questo è successo È successo l'anno scorso È successo a luglio Di quest'anno Quando siamo tornati Con Giordano Bruno E sta riaccadendo E quindi È una magia Ed è molto bello Il pubblico Ha recepito molto Ma molto bene Sia l'anno scorso Che adesso Che è partito il festival Sembra che Cioè Vi segue In modo molto Chiaro È evidente Pensa che è emozione Per noi È davvero Un'enorme felicità Sentirsi così accolti E sentire anche Che c'è Un'attenzione E un seguito Così forte Per noi È La ricompensa Più grande Più bella Che possa esserci Anche perché È un fattore in più Che ci spinge A fare sempre meglio Perché poi si avverte Quella responsabilità Il pubblico Si affida E si fida Delle iniziative Quindi Cerchiamo sempre Di dare il massimo E di migliorarci Bravi Allora Contro Tempo Theater Ricordiamo Loro vengono da Roma C'è chi è nato a Roma C'è chi è romano D'adozione Allora Noi siamo felicissimi Di essere Media Partner Del vostro festival Di Extraordinario Festival Però siamo ancora più felici Se adesso voi Uno a uno Ci dite Una cosa Che Pinerò Ha meglio di Roma Vai Veloci Per chiudere Così Una carrellata Veloce Scusate Io devo ricordare Però altri due appuntamenti Che ci siamo persi Sarò rapidissimo Guarda come svia Guarda Ma come te la richiedo Assolutamente Sono due spettacoli Teatrali Due performance E sono la performance Di Sghembo Festival Che ci sarà il 30 settembre E una performance Appunto abbiamo parlato Di Marco Cuglielmi Che farà insieme Sarà un teatro e musica insieme Questi ce li siamo persi Questi due scusate Sì perché ci siamo concentrati Molto sugli appuntamenti Di questa settimana Ovviamente Comunque le buche Le buche Allora Le buche Pinerolo Ha meno buche di Roma Perfetto Lilith vai Oddio Eh lo so È difficile No è facile È facile Il vino Il vino Il vino Il vino Il vino Perfetto Il vino pinerolese Migliore di quello di Roma Venanzio vai Per ultimo Hai stato pregato tutto Il vino Il vino Dì una cosa a casa Una cosa a casa Poi mi sentono quelli di Roma E dicono a me No È rischioso Poi Sì pure perché abbiamo fatto Siamo impegnati molto Pure a Roma Veniamo da una rassegna Che abbiamo Direttore Allora No 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 Allora Venanzio è l'unico Che non ha trovato qualcosa Di Pinerolo Meglio di Roma No però Aiutatemi a trovarla No Aiutatemi a trovare La sta cercando Esatto Perché la sto cercando E ci suggerisce Michico? Gliagnolo Gliagnolo Gliagnolotti Gliagnolotti Ecco che non ho ancora assaggiato Grazie Michico Non vado pazzo per la carne Devo dire la verità Ma tu fai film Però Gliagnolotti Mi ispirano Benissimo E' un peccato che siamo in chiusura Perché a me sarebbe piaciuto Vedere un pezzettino Qui recitato davanti Qua Proprio per fare un assaggino Però purtroppo Dovete correre a montare tutto Però la prossima volta Veramente un pezzettino Ce lo fate Vediamo Quando ci rivediamo E quando ci rivediamo E quando ci rivediamo Quando volete Presto Presto Quando volete Ne riparliamo Sì Ne riparliamo Insomma Ci sentiamo poi Quando ci rivedremo Poi insomma Capiremo un po' Va bene dai Volentieri Allora grazie 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 a voi Grazie Compagnia Controtempo Theater Extraordinario Festival Mi raccomando Partecipate C'è un programma Vastissimo Ne abbiamo parlato Enorme Enorme Spettacoli Laboratori Concerti Stand up comedy E fino al 6 ottobre A Pinerolo